Salve a tutti ragazzi siamo venuti qui per la seconda amichevole Roma Venerbrema giocherà Gilberto dopo di molti il campionato lo ricordiamo è leggenda e dite a vostri amici di iscrivervi e vi vogliamo in tanti cercheremo di fare il più video possibili quasi ogni giorno e poi vedremo come fare e ne faremo anche altri video consigliate su quali giochi per esempio GTA V faremo Ghost Butterfield eccetera PS se volete e anche altri per migliorare la qualità dei video stiamo anche facendo facendo dei video cercando di trovare una telecamera per per far vedere meglio video senza che inquadriamo la televisione ma purtroppo che siamo ancora negli inizi quindi che ne dovrete ancora aspettare un pochino mamma mia Gervi 1 a 0 Gervi è svenuto è svenuto è svenuto attenzione è morto piani c'è ora lo rimane a rimare e pure medica attenzione pure medica in corso pure medica in corso mamma mia ah no ok è entrato ha detto che ha avuto uno stiramento al pene e si è buttato a terra sto stare grattando sta grattando la banana mamma mia mamma mia mamma mia BOOM eh scari che ti ammanno ci fate non ho potuto girare dove avrete voluto ragazzi poi se volete facciamo anche altri video dove dove chi perde per esempio a Ghost o in accessione tipo dobbiamo aggiungere qualcosa di veramente schifoso è bucadini ok tipo carbonara così no BOOM no per scherzi mangiamo BOOM possiamo mangiare per esempio pagioli crudi apena uscire la filtr eccetera oddio mi stanno mi insegnare la cazzo ero un fumo lo stavo a bere attenzione 2-0 ragazzi per la Roma Quanto? Si ma sembra troppo semplice Io prima ho già dato leggenda Giù beh T'ho messo esperto No affanculo Ma dovrei fare giocare a te Che ci va così Ragazzi allora io che sto registrando Mi chiamerò Simo99 Mentre colui che sta giocando Ovvero Gig B Se mi cercate sulla Playstation Sono Gilberto 20 10 9 9 Vaffanculo Oh il culo della madonna Niente E se paga solo a me FIFA Damma mia Sto anche per segnali Pum Che ha fatto Mortacci tua Poiché eri in merda Dai Mamma mia Non c'è niente da fare Abito Ma adesso è troppo Ma con me era meglio Mi ho messo io Vabbè sto a giocare Contro una squadra Ebraica Sto a giocare Allora ragazzi Commentate con i vostri Se vi è piaciuto Se o no Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto il video Commentate con dei video Che volete fare E commentate anche Chi preferite Come giocatore Tra me e Gmb Sicuramente Preferiamo Simone Perché Io sono un anno Che gioca a FIFA Lui Qua davanti hai già vede? Due Per più c'era La FIFA 13 Fa conto È un aumentato La velocità del gioco Almeno Non capisci un cazzo Cioè Ti trovi la palla Fai subito Quello che devi fare Perché è multivina Cioè manco Ti rendi conto Quello che sta fatto Poi se c'è riflessi Tipo Simone C'è la parecchia Su FIFA Io invece Su Ghost Poi c'è Qui è fortissimo Su giochi di guerra Ghost A check in Butterfield A usare Quick Infatti Faremo anche Quattro video Con i Quick Io che faccio Quella Poi Faremo anche dei video Su giochi Per Android Tablet Anche per Xbox Eccetera Per fare Per esempio Clash on Clans E poi Che giochi ce sono Head Soccer Head Soccer Geometry Dash Eccetera Geometry Dash Mi fanno Un pregame Geometry Dash Lo potremmo usare Per esempio Ogni volta Che si muore Bisogna mangiare qualcosa Sai A fine Dopo 100 100 passamorti Si diventa Si diventa Maradona Si diventa Grazie Come Adriano Let's Roma Cosa sta succedendo Come siamo ridotti In Italia Come Come con De Santis Come Magari sbagli Come Magari sbagli Come Mortaggi tua Mortaggi tua Non lo so Chi mi ha preso Oh Cazzo Eh Bastardo Bello Tremoto Inizio Va Fatti Bravo Ragazzi potremmo anche dirvi dei trucchi su Clash on Clans Per esempio come Come farvi Regalare delle gemme gratis Oppure consigli Anche per i Per i nuovi iscritti A questo gioco Che ormai ci sono video quasi ovunque E soprattutto su YouTube E vi potremmo dare dei consigli Per esempio Se mettere dentro o fuori il castello Cosa migliorare E E cosa Per farvi diventare sempre più forti Dei consigli essenziali Essenziali Se volete migliorare Soprattutto diventare forti in questo gioco Speriamo che ti segnano Gigli Almeno stiamo presto Forza venderremo Cediro Cediro De centro campo Io Ragazzi ora non abbiamo iniziato questa carriera con la Roma Ma sicuramente faremo altri video Per esempio Ultime Team Eccetera E non oggi ma in altri giochi Comunque saremo molto attivi Sul nostro canale YouTube Cercheremo di migliorarci Perché siamo ancora alle prime armi Ma del resto Buona visione a tutti E divertitevi E iscrivetevi Commentate i nostri video E non potete mi piace Grazie I vostri amici Iscrivetevi E iscrivetevi soprattutto Poi faremo giocare anche a mia nonna Come è voluto nel primo video A FIFA FIFA 54 Ha vinto molti tornei Oh ca... No Ha vinto molti tornei di Garte al centroanziani Domino pure Molti tornei di scopa Tromba Veriscola E in altri giochi Come sei fatto? E' un cerchio normale E' un bastardo Si è alto E si sta dietro Oddio senza schiena Ma io penso che avevi preso la testa E' un decapitato Un decapitato Oddio ecco giallo Ma la prossima azione Se segni però mi sento da giallo No Sì Guarda che stronzo Che stronzo Mortacci tua Gigby quando si arrabbia E' davvero impressionante Soprattutto ci fanno di realizzare Perché è veramente lo possibile Maremma c'è La maremma si intende alla pianura Tutta la più merda E' davvero 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 No dai Lo può Parco di Cazzo di очерede E' davvero Ma che gli ho fatto Dime Dai da te Mo' faccio gli Viaggiando con Mariano Dai E' davvero Segnano un'ultimo Ecco la partita è finita La Roma vince per 2 a 0 e questo qua era uno solo amichevole e tra un po' cominceremo anche il campionato metteremo in grossi video non oggi ma in un altro giorno e vi aspettiamo in tanti mettete mi piace se il video vi è piaciuto commentate su cosa possiamo migliorare o dateci consigli non siete tanto critici perché siamo come già detto alle prime armi bello a tutti ragazzi chiamate i vostri amici e ciao ragazzi grazie